Là in fondo quei pilastri si intersecano, è veramente strano e peraltro in questo periodo purtroppo sto sentendo, come dire, un presentimento strano relativamente a questa casa. Devo cercare dentro e vedere che cosa si nasconde all'interno di quel dungeon, dico, perché sappiamo già che qua sotto c'è un dungeon dagli scorsi episodi. Siamo andati già in questo qua, però adesso è giunto il momento di andare in questo rosso, ok, vedo che c'è un'altra porta e ancora un'altra più in fondo, quindi sembra tipo un tunnel, però qua ci sono degli spuntoni veramente pericolosi. E questi qua purtroppo, e non scherzo, solgono tanto, 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 allora infatti dobbiamo essere super attenti, rischiamo che ci moriamo qua, eh. Madonna mia, raga. Eh, scusatemi, ma qua non c'è niente. Cioè, cosa... Aspettate un attimo, ma io sono stato chiuso? Raga, ma che cavo... No, 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 vi prego, no, vi prego. No, 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 vi prego, vi prego. Non riesco più a spaccare. Giuro, vi posso giurare che non sto... Allora, ve lo provo. Guardate, io sto premendo, giusto? Sto premendo. Non si spacca. Eh, no, no, nessuna ascia. Ho questa. Non posso spaccare con questa. Raga, 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 siamo bloccati qua. Raga, io non lo so, sto provando da un po' di tempo a spaccare, ma non riesco, cioè... Ma che cavolo è sto qua? L'ascensore si nasconde bene, è ovunque. Cosa? Raga, raga, no, 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 mi sa che ci dobbiamo sbrigare, mi sa che ci dobbiamo sbrigare. Ok, l'ho trovato, l'ho trovato. Allora, allora, è tutto buio. È tutto buio. Non fatevi preoccupare. Cioè, no, non preoccupatevi. Stiamo tranquilli. Io mi sto veramente spaventando. Allora, la scorsa volta è successa un'altra cosa del genere. È tutto buio, raga. Io ho paura che ci sia qualcuno dietro. Raga, è la cosa più inquietante che possa esistere sulla faccia della Terra, questa cosa. Io vi prego, io non riesco a stare da solo qui. Vi prego, lasciate like. Per favore, per favore, lasciate like. Fatelo ora. Che potete, cioè, nel senso, potete anche dopo, però dico, ora è meglio. Cioè, nel senso, ci sarà un ascensore da qualche parte, no? Cerchiamo di andare tranquillamente senza, senza città. No, lo sapevo, lo sapevo. Raga, 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 mi sto uccidendo. No, la mia spada, la mia spada è inaderite. L'ho droppato la spada. Ho droppato la cavolo di spada. Via. No, 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 raga, ci moriamo, raga. No, non posso, non posso. Scappiamo, scappiamo. Raga, perché? Perché a me? Perché deve succedere tutto questo? Raga, perché? Scappiamo. Via, 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 via. Come ho detto, da qualche parte, qui in questo tunnel del cavolo. Oltre agli altri Rainbow Friends, magari ci potrebbe essere un ascensore. Se lo troviamo, devo immediatamente scapparcene. In me che non si dica. Io giorno appena trovo qualcosa, perché qua non sembra esserci niente, a parte un tunnel vuoto inquetantissimo. Raga, l'ho trovato. Ok, siamo fuori. Grazie al cielo. Grazie al cielo, raga, io non entrerò mai più in quel coso. Allora, io, io, allora. Ok, 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 c'è anche scomparsa, vedete, vedete. Allora, non entriamo mai più in quella cosa lì. Sappiamo di che cosa si tratta, non entriamoci. Ricordatemelo sempre nei commenti. E soprattutto, per diavolo, ricordiamoci di non seguire il percorso. Quando seguiamo i percorsi, quello che ci presenta il gioco, quello che ci dà tipo questo mondo maledetto. Ogni volta che lo seguiamo, ci capita qualcosa di sbagliato. Quindi dobbiamo cercare qualcosa al di sotto. Dobbiamo cercarla. Quindi, mi raccomando, scrivetemi nei commenti quale, secondo voi, potrebbe essere questa dannata strada giusta che non è quella. Perché quella è la strada maledetta. E non dobbiamo più seguirla. E soprattutto dovrei... Non lo so, la mia spada è scomparsa. Comunque, iscrivetevi al canale. Per non perdervi i prossimi video finissimi che ci saranno. E ci vediamo al prossimo video.